Abbiamo contattato un building manager dal comune di Roma a società private. Loro ci hanno richiesto un mezzo di trasporto per limitare il tempo dei dipendenti che sono da casa ad arrivare al lavoro. C'è stato anche un evento che si è chiamato Two Wheels to Move, proprio dedicato a questo. Ci richiedevano quindi di diminuire il tempo delle persone per raggiungere il lavoro, inserendo gli scooter presso i punti come le stazioni, stazioni Magliana, stazione EUR Termini, per poter raggiungere più velocemente il proprio lavoro. Tantissimo, perché loro hanno l'esigenza di dover aiutare i propri dipendenti a trovare delle soluzioni. Noi con Ecultra abbiamo dato modo a loro di completare il range di informazioni che possono dare i propri dipendenti per risolvere questi problemi.